Siamo pronti per questa lezione di Zumba Live, ci siamo, benissimo, pronti! E va! Oh! 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 E andiamo con la marcia! Brava! E andiamo! Oh! Braccia! So! Braccia! So! Al servo! Ok! Marcha! Avanti! Ho! Sì! Arterato! Arterato! Ok! apri, chiudo, apri, troccio apri, chiudo, apri, troccio apri, troccio, apri, chiudo ancora ok 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 vai negli squat, sono forte l'attome e e sol e ho e e e e e ha e 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 gli e e e 高i e e e E su! 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 Sì Ok, si è vero Pronto Pronto Ehi! 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 Pronti! Ehi! Ehi! Oh! Yeah, yeah, yeah! Oh, oh! Oh my God, we're back again! Ha! Versus as everybody say Gonna reap the flame, I'll show you how Ha! Ha! Yeah! Am I the only one? Yeah! Am I the sexual? Yeah! 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 Am I everything you need to know? Rock your body now! Everybody! Yeah! Rock your body now! Yeah! Everybody! Run your body right! Yeah! 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 Now throw your hands up and get it out! Hey! Don't Albert guy! Yeah! Don't be big! How do people knowKA! Yeah! Yeah! Ah! Tutto Sì Go! Siente mi ritmo Baila mi cha 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 Goza mi zumba Baila, 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 baila Cha 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 Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila mi ritmo Cha 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 Baila conmigo No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sì, sì, sì. 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 ruota la testa. Sì. 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 ritorno in centro, luco a destra, ritorno in centro, per un momento ho tagliato l'esterno e muchas gracias, grazie mille, allora fatemi sapere com'è andata, ciao di feriti, noi